È sempre bellissimo poter far parte di questa città, di questo gruppo, di questa famiglia. Io ci tenevo molto, a me mi si è sempre trovata bene, ho avuto sempre delle grandissime soddisfazioni, sia a livello personale che di squadra, si lavora bene, è una società seria, quindi è importante poter far parte di questo gruppo un altro anno. Sicuramente si proverà a fare un passo in più perché fa parte dello sport. Secondo me il campionato italiano e le squadre, seguendo un po' il mercato, si sono rinforzate molto, quindi diventerà molto interessante a partita dopo partita capire come si sviluppa il campionato. Ci saranno strumenti nuovi, anche giocatrici nuovi maiesti, quindi perché no, un'esperienza nuova. Noi sicuramente cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso. Sicuramente ci sono progetti importanti alle spalle delle due squadre, è un ottimo modo di lavorare, è un ottimo modo di dare una mano a tutto il movimento. Sicuramente è anche lo stesso impegno che la società ci mette ad organizzare anche le piccole cose, le singole partite, la voglia che ha la società e tutto il tipo di rendere ogni partita un evento unico, secondo me è una cosa che in Italia si fa fatica a trovare e che qui a Venezia invece ci si mette un sacco di impegno per fare questa cosa. Secondo me è una cosa unica in Italia.